ed ecco il vostro ferro con il secondo videuccio della giornata sempre simpatico monociclo accendiamo posizioniamo il piedino angoliamo a sinistra posizioniamo il secondo piedino e partiamo destinazione vicinissimo un chilometrino ma questa volta ve lo faremo tutto sui marciapiedini quindi partite e posizionate bene i piedini ma ciò sinceramente non ha più alcun interesse dopo un po' che lo utilizzate come vedete un po' li tengo vicini un po' lontani sinistra destra alla fine come camminare cose che contano veramente poco e passando sul marciapiede abbiamo il primo intoppo derivante da il monociclista che ha occupato l'intero spazio pedonale ma noi siamo caduti perché siamo vecchi e rincoglioni allora ripartiamo non è vero che siamo caduti abbiamo semplicemente messo giù il piedino a mettere il piedino giù è come qua da doversi fermare davanti a un ostacolo comunque fondamentalmente avevo il borsello destra e avevo paura di raschiarlo contro il muro di destra e quindi non mi sembrava il caso di raschiarlo il mio borsello che vi faccio vedere guardano 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 burselotti portatelefono e portatabacco contro il muro che in quel caso era proprio puntinato ho detto metto giù il piedino che siamo a posto ed ecco il buon ferro qua come vedete le sconnessioni sono notevoli ginocchia flesse fischietto per avvisare eventuale mammina che usa la carrozzina con infante come ariete da sfondamento e scendiamo gradino ecco i gradini magari è una roba che allora lui non ha il gradino stava dicendo una cosa che il monociclo fa però secondo me l'impatto e la botta che prendono i cuscinetti della ruota quando toccate terra è abbastanza pesante certo se pesate 50 kg e siete dei fuscellini non ci sono problemi eh va 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 come vengo osservato guardali guardali sono le ventenni che impazziscono grazie caro mitico il sera stavo dicendo prendono una grossa botta i cuscinetti quindi se potete evitare che scendano dai marciapiedi di meglio ma questo lo dico sempre ai quadisti che prendono un quad e pensano sia un sumbericibile da immersione e quindi si fanno tutti i quadi dicendo e grazie al cacchio e grazie al cacchio mica si rompe come mezzo da divertimento lo vedo esattamente come mezzo utile per andare a lavorare per mezzo di spostamento cioè non mi diverto prendo il monociclo assolutamente no devo andare in un posto e uso il monociclo come mezzo di trasporto non prendo il monociclo per divertirmi per divertirmi nell'eventualità me ne so permesso oh ce l'abbiamo fatta eccoli qua il pedone è sempre fantastico grazie ragazzi permesso grazie figurati e siamo comunque arrivati alla nostra vita signore del ferro buona giornata